direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 28 gennaio il jackpot ha raggiunto la cifra di 67 milioni 218 mila 272 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione concorso numero 12 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 33 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 57 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 50 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 89 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 16 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 21 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly estratto di questa sera è il numero 52 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 33, 57, 50, 89, 16, 21 numero jolly 52 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna, pronti? il numero superstar estratto di questa sera è il numero 26 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 12 in ordine crescente 16, 21, 33, 50, 57, 89 numero jolly 52, numero superstar 26 l'estrazione di oggi martedì 28 gennaio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 67 milioni 200 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati, poco fa abbiamo estratti i numeri vincenti del concorso numero 12 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in allotto assegna 363.725 vincite mi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 67 milioni 200 mila euro sarà stato centrato il 6? ebbene sì, super in allotto regala il primo jackpot del 2020 la combinazione vincente è stata centrata nella ricevitoria Sisal in strada provinciale 288 ad Arcola in provincia di La Spezia vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote il 6 vince 67 milioni 218 mila 272 euro nessun 5 più 1 i 5 sono 3 e vincono 61 mila 697 euro ciascuno i 4 sono 450 e vincono 420 euro ciascuno i 3 sono 19 mila 89 e vincono 29 euro ciascuno i 2 sono 309 mila 130 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 13 mila 575 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuno scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 42 mila 26 euro ciascuno i 3 stella sono 88 e vincono 2976 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1435 2 stella 10 euro ai 10.241 1 stella 5 euro ai 23.285 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 30 gennaio giocheremo per un jackpot di 14 milioni 500 mila euro arrivederci � a giovedì 30 gennaio petitta piñano 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 Grazie a tutti.